Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Nina Moric, la bellissima modella croata ha lasciato i suoi followers senza fiato. Il cambio look che ha deciso di adottare è straordinariamente singolare e le dona tantissimo. In migliaia le hanno fatto i complimenti. Gli scatti hanno fatto il giro della rete, sensuale e carismatica ha lanciato una nuova moda per i capelli. Nina Moric, la modella croata ha lasciato i fan senza parole. L'acconciatura è divina. Nina Moric non ha bisogno di particolari presentazioni. La modella e conduttrice di origini croate è tra le più belle e conosciute al mondo. La sua straordinaria avvenenza l'ha resa celebre, ma si è fatta amare soprattutto per la sua dolcezza e la spontaneità che l'ha sempre contraddistinta. Di recente la Moric è finita al centro del gossip grazie alla sua particolare acconciatura. La modella ha postato delle instastories in cui sfoggia tante treccine, i capelli tirati indietro mettono in risalto i suoi occhi di ghiaccio ed il viso perfetto. I suoi followers non hanno potuto fare a meno di farle i complimenti per la scelta. Nina Moric, il rapporto con il figlio Carlos, credo in lui e ci sarò sempre. Ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Nina Moric solo pochi mesi fa ha raccontato del rapporto che ha con Carlos, suo figlio. Non sta più studiando e questo mi spiace perché ha una bella testa, ha esordito la modella. Poi ha continuato dicendo, sono rimasta in Italia solo per lui anche se ho avuto una carriera esplosiva all'estero. Oggi Carlos è un uomo e mi sento di troppo. Io lo amo più della mia vita, ma dall'altra parte ho bisogno di trovare la mia serenità. L'unica cosa che auguro che Carlos prenda le sue decisioni, che non si faccia mai calpestare. Io credo in lui e ci sarò sempre, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.